Buongiorno a tutti, sono Francesco Cardone, commercialista. Sarò presente il 23 novembre a Torino, allo Speedmind divento un imprenditore efficace. La mia relazione sarà maggiormente sul sistema impresa vincente, educa, cresci e proteggi, come rendere oggi gli imprenditori focalizzati alla redditività aziendale, anche con l'utilizzo di strumenti innovativi come il crowdfunding o il deal. Quindi con grande piacere parteciperò a questa Garmes del 23 novembre col grande Francesco D'Alessandro e saranno tante ore di importanti con speech di vari coach di importanza nazionale e poi sarò presente alla cena riservata ai 50 imprenditori che vorranno stare con noi per fare domande specifiche. Sono contento dell'invito di Francesco D'Alessandro, mi ha fatto veramente piacere, ma anche il parterre dei relatori è un parterre importante e quindi essere vicini agli imprenditori per me è un elemento fondamentale e con grande 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 piacere. Quindi sarà con voi il 23 novembre, porterò il mio libro e parleremo di come si costruisce oramai nel 2020 un'impresa vincente focalizzata all'educazione dell'imprenditore, quindi alla sua formazione, alla redditività e alla tutela del patrimonio degli imprenditori, della famiglia degli imprenditori. Buona giornata, ci vediamo il 23 novembre a Torino. Ciao!